salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale in questo video andremo a prendere la spada e burnea celeste è una spada leggendaria quindi è unica ed è abbastanza difficile da prenderla per il tempo che dovremo impiegare per averla la spada sarà la ricompensa della mini sfida la statua della dea madre è una statua molto grande che noi dovremo riparare quando l'avremo riparata ci verrà consegnata la spada per risparmiare del tempo la cosa migliore da fare è andare a interagire subito con la statua grande non non sembra nel senso che non inizierà nessuna sfida però verrà memorizzato il fatto che noi abbiamo esaminato questa statua dopo averla esaminata decidete voi io vi consiglio di andare subito dai tre draghi dovete lo scopo della missione è andare dai tre draghi elementali fuoco ghiaccio e fulmine e prendere un artiglio da ciascuno di essi dopo aver preso l'artiglio lo dovete portare a tre statue diverse e completerete così la missione se andate dalla statua e poi dal drago dovrete comunque ritornare dalla statua tanto vale riandare subito dal drago vi servirà un solo artiglio di ciascuno di questi tre draghi elementali secondo me la cosa migliore da fare è aspettare i tre draghi all'uscita perché è molto più facile farmarli quando escono sono in verticale e basta mirare subito all'artiglio che vi verrà consegnato e se lo attaccate subito quando esce vi cade in testa o comunque siete molto vicini all'artiglio e potrete ripartire dalla torre più vicina quindi abbiamo i tre draghi quello del fuoco la sua uscita dal baratro è questa poi abbiamo quello del ghiaccio la sua uscita è questa e in ultimo abbiamo quello del fulmine che esce da qui quando avrete preso i tre artigli diventa come dicevo molto semplice andate dalle tre statue interagite mettete l'artiglio ecco vi consiglio l'artiglio di metterlo dentro l'acqua e non sopra l'altare a volte non funziona sopra l'altare mentre nell'acqua lo buttate lì e funziona sempre di fronte alla statua lì e funzionastorm vi verrà detto comunque che la statua grande è stata ripristinata anzi vi chiederà se aprirà la mini sfida e vi dirà di andare nel nord ovest della mappa interagire con la statua grande e dopo che ci avrete interagito vi verrà consegnata la spada la spada è molto forte e dovrebbe durare 45 colpi prima di essere distrutta per riavere la spada bisogna riparlare con la statua grande che vi chiederà se avete ancora la spada e ve ne forgerà un'altra al costo di di nuovo i tre i tre artigli però li date direttamente a lei non vendete neanche la transazione date gli artigli pronta la spada puff ed eccoci arrivati alla fine del video ragazzi spero che questo video vi sia stato utile vi sia piaciuto se gradite un approfondimento maggiore riguardo i tre draghi li ho messi uno a uno sul mio canale così potete vedere cos'altro farmare oltre gli artigli grazie a tutti per la visione vi auguro una buona giornata